Allora praticamente qua scendo, sento i romateni che faccio, qua c'è un amico che mi segue, l'ho incontrato stamattina là verso Monte Salviano. Praticamente questa ha fatto pure un bel po' di chilometri, non ha fatto i miei stessi chilometri. Vabbè comunque qua si scende, il percorso è un po' accidentato, per chi non è pratico, per chi è pratico è molto agevole. Ecco mi sembra, è costa, dalle da un apparecchio, bellissime, è un bello percorso ecco, ci sono stati pure ieri, ecco quella che rimane, ma sembra bombardata ecco, però è bello, c'è pure un vantaggio, che qua non c'è più smog, si sa là a piedi o in bicicletta, la maggior parte è a piedi, c'è un altro percorso qua, si scende qui, si gira, con questa montagna ci sta lavorando, con la lampada, guarda il bello panorama, la strada è difficile che la aggiustano, qua ci vogliono soldi, si chi dà i soldi?